Vai che si continua ancora, vediamo se sei quelli di Michael Jackson, non stavano i voli, non ancora conosciuto, ma i cambi successi della re del poppa, arriva mica una nuova per voi. Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!